La metropolitana di Firenze ha ripreso da metà giugno i consueti controlli nell'invaso di bilancino per verificare sia la conduzione dell'attività di pesca che la fruizione delle sponde da parte dei sempre più numerosi turisti. Il servizio è stato svolto con l'ausilio del natante in dotazione alla Polizia della Metro Città e questo ha permesso di effettuare controlli anche ai numerosi pescatori dotati di imbarcazioni. Le operazioni di controllo andranno avanti per tutta l'estate. Intanto la Sala di Protezione Civile della città metropolitana di Firenze informa che fino al 31 agosto scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali, agricoli e forestali, i cosiddetti abbruciamenti. La mancata osservanza dei divieti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.